Giammes Benelli, vicepresidente Brescello Piccardo. Giammes, stai vivendo un momento veramente entusiasmante. Brescello può finalmente tornare, insomma, agli antichi fasti. Ci sono tutti i presupposti perché questa squadra gioca molto bene, diverte e soprattutto vince. Non bisogna cantare vittoria perché è un po' presto, però la squadra si vede un bel gioco, si vede che ce la mettono tutta e potrebbe essere che ha idea delle soddisfazioni. Però bisogna sempre andare con i piedi per terra, bisogna andare all'inizio e sicuramente anche altre squadre che magari sono partite male ma magari si rifanno più avanti. Però noi siamo partiti bene e c'è un proverbio che dice che chi parte bene parte due volte e quindi speriamo che sia così. L'impressione è che è una squadra che sa quello che vuole, cioè corre, corre, crea tanto e poi dopo un momento giusto, come anche è successo domenica scorsa ad Arceto, dà sempre la zampata decisiva per portare a casa i tre punti. Sicuramente è una squadra che può dar fastidio a tante. Credo che attualmente sia scomodo per qualsiasi squadra incontrarci. Però il calcio è questo, adesso noi vediamo un momento felice. Io spero di continuare fino alla fine con questi risultati, con questo calcio. Ci stanno anche le sconfitte, però quando si gioca il calcio come giochiamo noi credo che sia importante e bello da vedere. L'obiettivo, ve lo siete già detti, quest'anno è un minimo play-off, no? No, l'obiettivo era di migliorarci dall'anno scorso, che l'anno scorso siamo arrivati i settimi, noi abbiamo cercato di migliorare. Vediamo che quantità miglioriamo in gradi di punteggio. Grazie a tutti.